Carlo Bottani, Presidente della provincia di Mantova, faccio i complimenti al Presidente Paolo Predellas, Presidente dell'Associazione Porta Giulia, Associazione Andrè Soffer, per l'ostraordinaria accoglienza e soprattutto per questo museo meraviglioso che dona tante emozioni e soprattutto racconta una storia di un eroe, Andrè Soffer, che unisce i popoli in questo ponte di amicizia tra Mantova e il Trentino Alto Adige, nel segno dell'autonomismo e del popolarismo europeo.